Qualcuno la chiama la regola delle tre C, cavalli, cani e canarini. A quanto pare tra le passioni della malavita non ci sono solo le corse di cavalli e combattimenti tra i cani, ma anche i pennuti. Finché si tratta di semplice hobby poco male, ma negli anni scorsi, durante la mostra internazionale che si è svolta a Bari, ci sono stati anche furti di esemplari preziosi. Per intenderci, un parigino, si chiamano così alcuni canarini, può arrivare a costare 5-600 euro, mentre un pappagallo anche 5.000 euro. Ebbene, dal 17 gennaio scorso a Bari ci sono gli esemplari più belli di canarini, quagli e pappagalli, in competizione per i mondiali. Un evento importante, ma anche un piatto che potrebbe far gola ai malintenzionati, come ha segnalato un commerciante di animali, secondo il quale c'era già chi era pronto a far razzia. La voce però è arrivata anche agli organizzatori del Mondiale, che hanno preso adeguate contromisure. Abbiamo organizzato un ottimo servizio di sicurezza e abbiamo attivato anche il servizio di videosorveglianza. Nelle prossime ore, ossia da quando la mostra aprirà al pubblico e gli esemplari da 26.000, diventeranno 46.000, la Questura ha assicurato un servizio di controllo interforze 24 ore su 24. Insomma, in fiera i pennuti sono sorvegliati a vista. Se mai il rischio può esserci fuori. Consigliamo a coloro che lasciano le macchine all'esterno di non far vedere che nelle macchine ci sono trasportini.